Questa partita l'abbiamo meritata, la volevamo fortemente soprattutto perché eravamo in casa con lo stadio pieno. 2-0 è un bel risultato, però comunque dobbiamo stare concentrati perché c'è una seconda partita in casa loro. Comunque è un buon vantaggio, ma non bisogna mollare. Un buon vantaggio fondamentale come il tuo secondo gol. Dicci che cosa hai provato. Una gioia immensa perché è la prima volta che segno sotto la curva sud. Diciamo che da quando sono arrivato è sempre stato uno dei miei sogni, segnare sotto la sud. Ci sono riuscito e soprattutto è servito a portare a casa un buon risultato. Quanto sta crescendo questa squadra anche dal punto di vista mentale? Credo molto. Non è facile perché giocare ogni tre giorni non è semplice, però ogni partita cerchiamo di arrivare e di metterci l'anima a tutto, al 100%. Poi in casa con questo pubblico è ancora più facile. Grazie a tutti.